Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza 600 familiari delle vittime ed è caduto in servizio della Polizia di Stato per dire grazie a chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per difendere i cittadini e la democrazia. Il Pontefice ha definito quella del Poliziotto un'autentica missione ricca di valori di speciale rilevanza per la vita civile, riferendosi allo spiccato senso del dovere e della disciplina, alla disponibilità al sacrificio fino, se necessario, a dare la vita per la tutela dell'ordine pubblico, per il rispetto della legalità, per la difesa della democrazia e il contrasto della criminalità organizzata o del terrorismo. La collettività, ha aggiunto Papa Francesco, vi è debitrice della possibilità di condurre una vita ordinata e libera dalle prepotenze dei violenti e dei corrotti, violenti che, trovando nelle forze dell'ordine l'ostacolo più arduo ai loro disegni efferati, spesso si scagliano contro di esse. L'azione della Polizia, spiegata ancora il Pontefice, richiama qualcosa di solido nel tempo, oggi che risulta più facile impegnarsi in qualcosa di provvisorio. Inoltre, in questi anni, la cena della Polizia si trova a dare un contributo decisivo per gestire l'impatto con la corrente di profughi che arrivano in Italia cercando rifugio da guerre e persecuzioni. Siete in prima linea, sia nell'accoglienza iniziale dei migranti, sia nell'opera di contrasto verso i trafficanti senza scrupolo. In questa opera, ha concluso il Papa, vi distinguete per spirito di servizio e umanità, spinti dall'imperativo morale di fare il bene, di salvare quante più persone sia possibile. Nel difendere i deboli e la legalità troverete il senso più vero del vostro servizio e sarete di esempio al Paese, che ha bisogno di persone che lo servano con disinteresse, generosità e continuità. Grazie. Grazie.